Qual è l'ultima cosa che hai fatto l'altra sera? E che serve? Non so! Perché io sto qua? Perché è nato un trattamento sanitario obbligatorio. Che vuoi dire che io non posso uscire da qua? Eh no, se no non si chiamava obbligatorio. Io sono Gianluca e sono vergine. Quello è Mario. Lui è Alessandro. Madonnina l'hai già conosciuta. Chi è questo? Si chiama Giorgio. È al quarto DSO. Al quinto gli regali non viaggi ai Seiscelli. Io non c'entro niente in questo posto. Qua ci stanno i matti, veri? Io qua non ce li mando. Non fa così. Sette giorni passano presto, che bollessia. Pezzo che merda. Come va a mangiù sta roba? Chiudi gli occhi. Dai una cucchiaiata. E pensi alla carbonara. Ma sai che con me non funziona? Sarai pronto. Sorte che questo posto me lo immaginavo un pochino meglio. Sì. E infatti perché te sei qua dentro? Infermiera! La libertà è andare un passo più avanti, essere sempre vero, spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero. Tre, due, uno! Questa cosa di te che mi fa incazzare? Che? Che mi fa ridere. Forse i miei compagni di stanza sono la cosa più simile alla mia vera natura che mi sia mai capitato di incontrare. Per i pazzi di tutti i tempi, ingoiati dai manicomi della storia. Sanchezza. C'hai vent'anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi.